Cala considerevolmente il numero di tamponi processati, 324 in un giorno e di conseguenza anche i nuovi positivi. In Molise scendono a 23. Questa è la fotografia dell'ultimo bollettino ASREM, dopo che nei giorni precedenti i contagi in 24 ore erano arrivati anche a oltre 400 ma con 1700 tamponi refertati. I 23 nuovi casi sono concentrati in 12 comuni. Il numero più alto riguarda ancora Campobasso con 6 positivi, 4 di Termoli, 2 di Boiano, Campomarino e Isernia, 1 rispettivamente di Baranello, Casacalenda, Lupara, Riccia, Ripalimosani, Trivento e Ururi. Tasso di positività a quasi il 7,1% da registrare 7 guariti. Ci sono anche due ricoveri in malattie infettive, un dimesso dal reparto e un trasferimento in terapia intensiva. Al Cardarelli di Campobasso sono ora 23 pazienti con Covid in cura, di cui due in terapia intensiva. Di loro 11 non sono vaccinati e 12 sì. Di questi ultimi, 7 con doppia dose o dose unica e 5 con terza dose. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 2.153, dei quali almeno due terzi della provincia di Campobasso. In tema di sanità, intanto, il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, ha confermato con propria deliberazione l'attuale assetto organizzativo aziendale della rete delle emergenze cardiologiche. Al Cardarelli di Campobasso, 11 cardiologi, di cui 4 emodinamisti, che garantiscono il servizio H24 obbligatorio, in quanto UB con copertura per tutto il territorio regionale. Al Veneziale di Isernia, presidio Spock, 8 cardiologi, di cui un emodinamista. Al Santimotio di Termoli, presidio Spock, 7 cardiologi, di cui 2 emodinamisti. Questo assetto organizzativo permane per sei mesi, al termine del quale verranno assunte nuove determinazioni, all'esito delle attività espletate per l'attuazione del POS 2019-2021 e delle risultanze delle procedure concorsuali in itinere. Con questa deliberazione si dà mandato ai responsabili di cardiologia degli ospedali di Isernia e Termoli di assicurare la programmazione dei turni di servizio. Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, sarà quindi impossibile, con due emodinamisti, garantire il servizio continuativo al Santimotio di Termoli. Mancano gli specialisti e, come è specificato nella delibera, non è possibile trasferire all'ospedale di Termoli altri medici dagli ospedali Cardarelli di Campobasso e Veneziale di Isernia.